Il Ministero degli Esteri della Danimarca, ha scelto Casper Klinge come primo ambasciatore del paese nella Silicon Valley, in California. Già lo scorso gennaio il Ministro degli Esteri, aveva parlato della necessità di avere rapporti più diretti e strutturati con le grandi società tecnologiche californiane e nelle scorse settimane ha scelto Klinge per trasferirsi con la famiglia a Palo Alto, in California. Klinge, che non ha esperienza di lavoro in grandi società tecnologiche, è un diplomatico danese che è stato ambasciatore a Cipro, in Indonesia, a Timor-Est, e in Papua Nuova Guinea. Il suo primo obiettivo, ha raccontato politico, sarà quello di creare una rete di contatti che comprenda grandi aziende, università e altre organizzazioni. Successivamente cercherà di lavorare a progetti più specifici. La Danimarca è uno dei paesi europei che si è dimostrato più aperto all'industria tecnologica ed è al primo posto del Digital Economy and Society Index dell'Unione Europea.